Ciao a tutti amici, noi siamo le BFF, Giussi e Alice! Benvenuti in questo vlog, siamo qui in un nuovo vlog, questa volta ci troviamo al Duga di Castelmonte, se ne sarebbe un bagno perché ci sono quelle tizie, soprattutto una in particolare, che fa il compleanno, e poi c'è la telecamera, è andatela a seguire su Youtube, adesso andiamo a fare un'esplorazione segreta, se non accendiamo una torcia non si vede niente, andiamo a segreterla, ma siete fifone, saliamo su questa barca, qua c'è una bellissima barca arenata, dai ci saliamo, no non è stabile, andiamo, andiamo avanti, giochi, non so se si vede, Giussi sembra una bambina, non so se si vede, quando sente parlare di parco giochi, ho sentito dei corvi, ho sentito dei corvi bruttissimi, che ansia, mi sta venendo l'ansia, e tipo, senti, senti, ha due, ha due, ha due, ha due questi, c'è il coda a quattro, si possono rendere tipo quattro persone, aspettate, io penso quanto vuoi due, vergogna, si vabbè ciao, qui siamo troppi leggeri, ma gli scendi per serire Giussi, per serire Giussi, è quattro, che bello, se non c'erano quattro persone, vai, Giussi sali, mi sta venendo l'ansia, tatto, vai, Piercia, vedete che io non desidero tapoti, ci dei pestano da dire, se non testo, oddio che figlio, ma se non ripendo io, хочешь Mangena passare a me, oddio, chi è Sabrina, vai, mantieni un cavolo, ciao, siamo stati qua, adrenalina pura perchè io e perché non calo, Ci voleva fare uno scherzio? становится, no piccio, dai, è Così crudino Oggi mio Andiamo a giocare Sofia Tua madre ha detto che dobbiamo andare No 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 Ma che ne sono No Hai ancora la toscia non so se si è capito Ah vabbè Josie racconta La nostra pentola ha fatto giochi Allora In pratica eravamo in labbra dell'anguria Che giocavamo E sentiamo Oh Ah Sofia Devi aprire Ci siamo cagate addosso perché erano vicini Sembrava che erano tipo la E invece ci siamo messi a correre come delle patti scatenate Come se ci fosse il terremoto E siamo venuti fino a qua dove c'è il cazzuccio Poi ci sono io Chi è questo indiviso Cosa hai detto Giusy poco fa Che ora c'è la mia Tu sei pasta C'è un gran assassino No Allora 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 Non ti scrivo commenti Ma in diretta mi piace Va bene, salutate che noi andiamo dai clown Basta Adesso stiamo Andando all'inferno Allora, stiamo, dove sei? Stiamo, aiuto Stiamo andando Di nuovo in quel parco giochi Parco giochi è abbandonato a horror Ho paura, ho l'ansia Non mi piace Non mette ansia No, scusatemi Io da questo ho pensato subito a hit Questa cosa è a due posti Ci sono due persone Poi ci sono le altalene Oddio Mi sono avuto un infarto Giro Ma mi fai male E' un rumore inquietantissimo E' un rumore tipo Ciao Alice Aiuto, mi stai cecando Dove andiamo? Di nuovo la Qua, in un momento Fa prima Andiamo all'avventura Che sei bella Ma perché la mia che fa E' bruttissima Che sei bella Sei dondolosa Non lo so Ho l'immagine Che tipo Mi fonda qualcuno da dietro E' mia mamma Eh, Giordini Fuori tu Dai, io me la vado veramente In serio Ma perché devi fare l'asino Asino Non so quello Se vuole vivere un altro pochino A voi devi la cadene via Mi aiuto B-Qualet B-Qualet E poi me la mandi Vai No, no Se ti facciamo Se mi facete la foto Io sono al centro Oddio Oddio Si capotta Si capotta Ah, ora lo capisci Questa volta E' che appunto Più quando hai le tue cose E' ancora peggio Ma siccome tu sei un ragazzo Non ce ne verrai mai Non pare Per la stampa Monica prendiamo Quello che cos'è Questa voce Grazie a tutti. Grazie a tutti.